Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica di Landog, o forse nella rubrica DC Comics, nella rubrica Batman. Ragazzi, oggi parlerò con voi di questo fantastico Colorfest... no no, non è un Colorfest, è qualcosa di più speciale, qualcosa che attendevamo da tanto. Sigla! Ragazzi, finalmente è uscito D-Landog Batman, numero uno di Sergio Bonelli, editore, non di Panini Comics, non della DC Comics. C'è stata una collaborazione, come lo sapete, tra la DC Comics e la Bonelli. Abbiamo già visto Flash e Zagor, abbiamo già visto Nathan Never e Justice League, tra l'altro sono in lettura, uscirà anche un video su quello, non temete, ma il numero che si è fatto più attendere è che anche quello il cui numero zero è uscito prima di tutti è stato appunto D-Landog Batman. Scritto da Roberto Recchioni, emerito curatore di testata di D-Landog e disegnato da Gigi Cavenago, emerito copertinista della serie regolare di D-Landog, che tra l'altro adesso Gigi Cavenago sta disegnando in America o per l'America. E devo dire che non so voi, ma per me questo numero non ha assolutamente deluso le attese. Io sono stato davvero soddisfatto, sono stato davvero rapito da questo numero. L'unico mio rimpianto, mannaggia a voi, è che dovrò prendere anche il cartonato, perché è bellissimo questo fumetto Bonelli di Daedicola, mi permette di leggerlo subito e parlarne con voi, ma non vedo l'ora di vedere quest'opera in cartonato, spero caldamente anche in carta lucida, per vedere, non lo so, questo numero reso al meglio, per vedere i colori di Cavenago resi al meglio. Tra l'altro per correttezza devo dire che i colori sono anche di Giovanna Niro, non solo di Cavenago. Mi raccomando, ci tenevo a dire questo. Comunque sono davvero entusiasta nel vedere questo, che è comunque un primo numero di tre numeri. Il secondo numero uscirà il mese prossimo, il terzo numero presumibilmente tra due mesi. Quindi per tre mesi estivi, questa avventura di Laniata e del Cavaliere Oscuro ci accompagnerà insieme. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano Batman e di commentare qui sotto con quello che ne è parso di questo numero, di questo video. Fatemi sapere se siete fan di Batman e questo numero vi ha incuriosito su Dylan Dogg o viceversa, se siete fan di Dylan Dogg e questo numero vi ha incuriosito su Batman, anche se Batman immagino lo conosciate tutti, se non altro dai cartoni animati degli anni 90 e dai film, quindi presumo lo conosciate, fatemi sapere se, non dico se vi è venuta voglia di rileggere dei fumetti, ma quantomeno di rivedere i film. Vorrei partire un attimo con alcune cose tecniche, se tecniche si possono chiamare, che ho notato in questo numero. Allora, innanzitutto, questo primo numero si chiama l'ombra del pipistrello. Il formato mi sembra molto, non parlo del rapporto, della spectratio del fumetto, che è chiaramente un buon ellide, ma il formato interno, le tavole e le vignette mi, come si dice, me le aspettavo magari un po' più americane, un po' più dei tagli obliqui, un po' più splash page, invece segue una griglia fumettistica molto bonellide e la cosa, non lo so, non so come prenderla, perché chiaramente questa operazione ha due scopi e lo scopo principale è quello di vendere questo fumetto all'estero, vendere questo fumetto negli Stati Uniti e far conoscere di nuovo il fumetto italiano negli Stati Uniti. Ci avevano già provato male con Dylan Dogg, con sei numeri a caso tra i primi numeri, ma alcuni sono incuriositi da Dylan Dogg negli Stati Uniti, ma magari questo numero vuole rilanciare questo progetto e qua si vede, esattamente come in Flash e Zagor, che c'è della passione, non si vuole fare solo il compitino per, appunto, come si dice, sancire la fine di questo progetto, la chiusura di questo progetto, ma c'è proprio il cuore nel portare gli elementi fondamentali di entrambi i protagonisti di questo numero su questo numero cartaceo e presumo anche nei prossimi. Però ecco, appunto, proprio per questo mi aspettavo una griglia un po' più americana, invece è volutamente una griglia Bonelli, ma forse proprio per non destabilizzare troppo il lettore che magari si affaccerà a un Dylan Dogg, proprio per portarlo gradualmente nella classica griglia Bonelli che potrebbe trovare in un numero di Dylan Dogg. Questa è un po' la prima cosa tecnica che ho notato, ci sono delle griglie, non dico vecchie, non dico standard, perché ci sono dei guizzi creativi, ma sono tutte dritte, non sono tutte o orizzontali o verticali, sono strisce complete, però ecco, oppure ci sono delle splash page, delle semi splash page, delle vignette enormi, però mi aspettavo cose un po' più oblique, invece no, quindi è stata fatta un'operazione di richiamo verso il pubblico statunitense con molti elementi che adesso vediamo, ma con una griglia italiana. Perché dico che questo numero è stato fatto anche per presentare Dylan Dogg negli Stati Uniti, perché è chiarissimo dal primo incontro tra Dylan Dogg e Bruce Wayne che Dylan Dogg si presenta al lettore, anche attraverso Groucho che nella sua prima vignetta guarda in macchina e spiega più o meno il lavoro che fa Dylan Dogg, per poi essere appunto spiegato meglio da Dylan stesso e anche da Bruce Wayne, serve proprio per presentare il personaggio a un pubblico neofita su Dylan Dogg e questo Dylan Dogg, questo Dylan Dogg i cui elementi fondamentali risaltano proprio perché è come se venisse presentato di nuovo per la prima volta, è un Dylan Dogg allo stato di grazia e l'ho apprezzato tantissimo. Persino Groucho, che molti non apprezzano o che molti apprezzano quando fa delle battute a caso e poi se ne va. Qua è funzionale alla storia, è la linea comica ma è un assistente in tutto e per tutto ed è quello che presumo, spero, un lettore che si approccia adesso a Dylan Dogg vuole vedere, non vuole vedere un assistente che fa una battuta e poi non c'è più per tutto il numero, vuole vedere qualcuno di protagonista insieme a Dylan, comunque qualcuno di utile, è un personaggio che serve. Entrambi i personaggi, entrambi gli iconici personaggi vengono presentati con i loro must, quindi mentre Batman appunto viene presentato all'inseguimento del Joker, che si trova a Londra e non più a Gotham City, Dylan Dogg viene presentato come esperto del lavoro, dei lavori di Xabaraz e esperto anche di questo mondo dove i morti si risvegliano quotidianamente, è un esperto di zombie. Dylan Dogg dal primo numero, dall'alba dei morti viventi, è legato per forza a Xabaraz e agli zombie ed è questo il suo territorio di competenza e qua vediamo appunto l'esperienza di Dylan Dogg e l'esperienza di Batman andare a unirsi per fronteggiare questi nemici. Ed è anche da qui che capiamo che Dylan Dogg viene presentato a un nuovo pubblico perché ci mostrano che tira fuori la pistola, che se la fa passare da Graucio, Graucio gli chiede non capisco perché tu non la porti mai con te quando noi fan lo sappiamo, Graucio lo sa, Dylan lo sa e Dylan spiega al pubblico neofita che è perché non ama le pistole. Con un fantastico, come si dice, gioco di regia, Batman si presenta e toglie la pistola dalle mani di Dylan, dal momento che anche lui odia le pistole. E da qui viene appunto spiegato il campo di competenza di Dylan e il fatto che è l'unico modo per colpire, per far restare a terra gli zombie. Lo avevamo già visto nel numero zero che Xabaraz è in combutta col Joker, che è Xabaraz in questa finzione fumettistica che ha, diciamo, aiutato il Joker quando si era appena, diciamo, trasformato nel clown che è, dal momento che era appena riemerso dalla vasca di acido e voleva guarire dal suo aspetto, è stato Xabaraz a dargli la forza per diventare il mostro che è e quindi in qualche modo è legato alle origini del Joker. E qua sappiamo che Joker è tornato da Xabaraz, non si sa perché, però vediamo che c'è un esercito di zombie jokerizzati. Molto probabilmente il gas del Joker, il liquido del Joker, aiuta a far muovere questi zombie molto più velocemente, come ha notato Graucio. E finalmente Roberto Recchioni ha detto una cosa che io da quando leggo Batman, da quando vedo Batman, me la chiedo sempre. Ma perché cazzo Joker e tutti i criminali di Gotham se ne restano a Gotham? Non ha senso! Cioè, ok, ha senso per un pinguino che magari ha le mani in pasta nella criminalità organizzata di Gotham, ok? Questo sì, infatti fanno anche notare, ok? Qua non conosciamo nessuno. Però minchia, ma che cosa ci vuole per uno come il Joker rifarsi una vita fuori da Gotham? Lo abbiamo visto anche in altre storie, in altri paesi, per carità, lo abbiamo visto quando ha ucciso il secondo Robin, era ambasciatore di uno stato della Centrasia, per carità. Però ecco, è sempre, sempre a Gotham. Qua mi piace questo... questa idea di Recchioni di sottolineare questa cosa sul fatto che, ok, ce ne siamo andati a Londra, ci siamo tolti dalle palle il pipistrello e qua facciamo una nuova vita. Mi è piaciuta molto che finalmente è stato detto. Ma la storia non è legata solo tramite il Joker che va a Londra incontra Xabaraz, ma è legata anche a doppio filo perché Dylan Dogg sta frequentando niente popò di meno che Selina Kyle, inaspettata come cosa, che una come Selina Kyle, frequenti Dylan Dogg, sicuramente si sono appena conosciuti, infatti lo hanno detto, si conoscono da tre giorni, e sicuramente nessuno dei due ha ancora conosciuto bene l'altro. E come viene spiegato tutto questo? Apriamo una parentesi dal punto di vista delle terre infinite, della DC Comics, del multiverso, dei cazzi e mazzi. Come viene spiegato? Perché tanti se lo sono chiesto, ma quindi questa, nel mondo di Batman c'è sempre stato Dylan Dogg, nel mondo di Dylan Dogg c'è sempre stato Batman, ma perché? Non rompete i coglioni innanzitutto. Ma mentre in Flash è spiegato appunto con un salto delle terre infinite che Flash è solito compiere, e mentre anche in Nathan Never è utilizzata la fantascienza per spiegare l'unione delle due terre, qua in Dylan Dogg, dove è vero che c'è di mezzo il sovrannaturale, però non c'è nessuno che compie magie, non ancora, ci sarà nel secondo numero. E quindi semplicemente è così, è una storia non canonica, come potrebbe essere Dylan Dogg, Morgan Lost, anche se lì vabbè è spiegato che è il Dylan Dogg di quella terra, ok? È semplicemente una storia non canonica dove Dylan e Batman coesistono. Ovviamente non nella stessa città, nello stesso mondo. Il mondo è grande, non è che perché stanno a migliaia di chilometri di distanza non possono non aver convissuto fino adesso nelle loro storie. Secondo me fila perfettamente, calza a pennello, senza troppe spiegazioni scientifiche che rovinano, che rallenterebbero la storia. Questa scelta, secondo me, per questo tipo di storia è stata la migliore. Abbiamo avuto appena un accenno di quella che sarà questa trilogia, ma mi è piaciuto vedere le piccole interazioni tra i personaggi che si somigliano, ovvero il Joker e Groucho. Joker fa le sue battute, non pensavo che il... scusate, Groucho fa le sue battute, non pensavo che il Joker per primo dicesse quanto parli, non pensavo che persino al Joker le battute di Groucho, non dico d'essere fastidio, ma noti che parla troppo. Però mi piace che ha detto, ah, questa qua, questa battuta che hai fatto era quasi divertente, in un'altra occasione saremmo potuti essere amici, questa cosa mi è piaciuta molto. Mentre Block, che non pensavo nemmeno di vedere nel numero uno, e invece sono riusciti a ficcarlo dentro in questa storia e calza comunque bene, ha avuto un'interazione con il commissario Gordon, seppur solo al telefono, e poi con Batman. E qui c'è stato uno scontro di pareri su quello che è la giustizia, la giustizia degli Stati Uniti, di una città corrotta come Gotham, e la giustizia di una città che esiste realmente, che è Londra e che è gestita da Scotland Yard. Ovviamente non dimentichiamoci che se Dylan Dogg è un indagatore dell'incubo e quindi per certi versi il crossover sarebbe stato più corretto con John Constantine, che comunque, grazie a Recchioni che conosce il mondo della DC Comics, ce lo mostrerà nel prossimo numero, come ha fatto vedere lui stesso dall'anteprima, non dimentichiamoci che è comunque un indagatore, è comunque un detective privato, e il detective migliore del mondo nella DC Comics è Batman. Quindi vediamo due detective che si confrontano proprio con il loro metodo investigativo, e qua proprio ne parlano insieme, e Dylan Dogg spiega in una scena molto cinematografica, molto televisiva, che a volte lui si affida al quinto senso e mezzo, e a volte funziona. Selina Kyle non è certo una damigella in pericolo, ma comunque viene catturata dal Joker, che si porta dietro Killer Croc, un po' una piccola citazione, un omaggio al Joker di Azzarello e Bermeio, dove Killer Croc era uno scagnozzo del Joker. Si porta dietro Killer Croc in Europa, a Londra, e Killer Croc comunque affronta Selina, la rapisce, e il Joker inietta questo liquido, questa sostanza a Selina Kyle. Non capiamo bene che cos'è. Secondo me è una mistura del liquido di Xabaraz e del Joker, però non si sa che effetto ha sui vivi. Quindi lo vedremo nel prossimo numero. Il numero si conclude fantasticamente con Batman, che ha portato la Batmobile a Londra. Non è una cosa campata per aria, perché all'inizio della storia ci hanno spiegato che Batman si è portato il suo parco... Batman, scusate, che Bruce Wayne si è portato a Londra il suo parco macchine, quindi era evidente che era fatto per nascondere la Batmobile, e fa molto ridere che Dylan Dogg dica sì, meno male che abbiamo preso la tua macchina e non la mia. E con anche la citazione a Batman Begins, ho portato la mia macchina, prendiamo la mia macchina, riferito appunto alla Batmobile, all'entrata in scena della Batmobile. Un ultimo minuto per complimentarmi di nuovo con Cavenago, non solo per, come si dice, i suoi colori che appunto non sono totalmente suoi, ma sono di Giovanna Nero, ma anche perché Dylan è disegnato davvero bene. Non è allo stato di grazia solo nella storia, ma lo è anche nei disegni. Quando Dylan è in primo piano e sta guardando Block seduto al tavolino, è bellissimo. È il Dylan Dogg come me lo aspetto io, come vorrei vederlo anche a livello cinematografico. Anche qua, quando è confrontato con Bruce Wayne, vediamo proprio la diversa fisicità, il diverso sguardo, il sorriso, il taglio di capelli, per sottolineare quanto sono differenti questi due personaggi. Ed è questa differenza sottolineata anche dall'aspetto fisico. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, di questo crossover, se aspettate con trepidazione il prossimo, se invece avete aspettato troppo, siete rimasti delusi, se ci avete rinunciato da tempo, scrivetemelo qua sotto. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'embuto. Vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.